Il signore chi è? Appartiene al nostro territorio? Lui è Ferdinando, Ferdinando Friggitelli, è il mio compagno. Ovrieriello comunista. Signori, purtroppo le persone dell'Interland napoletano non si smentiscono mai. Hanno vissuto una vita di imposti completamente sconnessi dal resto del mondo, sui loro motorini 50, tra patentini e brevetti di guida speciale. In quelle strade, sapete, non si guida come nel resto d'Italia. Bisogna conoscere regole stradali precise, per esempio la rotonda. Di solito nel resto del mondo chi ha imboccato la rotonda ha la precedenza. A Caivano non funziona così. Neanche a Crispano, Fratta Maggiore, Afragolo, Secondiano, Miano, Melito, Scampia. E chi più ne ha più ne metta, poiché sono infiniti sti paesi e ne appaiono sempre di nuovi. Effetto frattale. In questi posti la rotonda si usa al contrario. Chi sta fuori dalla rotonda ha la precedenza. Ve lo lascio solo immaginare quello che si può creare, grazie a questi disgraziati scunnizi delle 167. Ormai l'Inter l'annapoletano è tutta una 167. Si uccidono gli uni con gli altri, sembra il Far West. Non c'è legge, non c'è comunità. Ci sta un prete antica morro ogni tanto che va in televisione. Ma più di questo che devono fare? Sono incivili. Ha parlato il sindaco di Mosca, fria Rie, appartenemma a morte. Toglimi una curiosità. Tu di che zona di Napoli sei? Capo di Monte. La faccio rocazza, abiti proprio al nord. Almeno sulle nostre strade non devi prendere il trattore. Ti fa solo un muto per il parcheggio. Il parcheggio, quello che voi fate in seconda e terza fila, sul corso. E se qualcuno prova a dirvi qualcosa, minacciate con le pistole. Ci fanno i film su di voi. Siete alla stregua degli animali. Fenomeni da baraccone. Hai ragione, O'Fredier. Sono d'accordo con te. A casa nostra la camorra si è mangiata tutto. L'Inter l'annapoletano è un cimitero di monnezza e prostituzione minorile. Tenimmo solo il prete che va in televisione. Ogni tanto qualcuno tenta di fare qualche cosa. Apre una scuola di teatro, un campo da calcio, una gelateria gourmet, ma poi deve fare presto i conti con la realtà, costringendosi a una vita distente e umiliante per molti versi, che indurisce il cuore. Pare che te ne vuoi andare tutti i giorni, ma stai chiusi in una gabbia, nel pilastro di una costruzione dismessa da anni, che ormai fa parte dell'arredamento, della composizione, uno scenario tragicomico. Che poi, oh frere, più te ne vai verso il litorale d'omizio, più sgrani gli occhi. Ci stanno certe zone di destra col turno che fanno paura. Oltre alla rotonda e al parcheggio, non sappiamo usare i parchi pubblici, li roviniamo, li trasformiamo in covi per drogati, scassiamo tutto coso, non ci sappiamo tenere una panchina, un palo della luce, una fundanella. Abbiamo paura di portare i figli a giocare e nemmeno sappiamo dove portarli. Così, rimediamo con i grandi centri commerciali, cimiteri di munnezza, costruiti su cimiteri di munnezza. Siamo talmente poveri e adattati alla nostra miseria che non si sa se siete voi a stare lontani dalla realtà, ma siamo noi che la conosciamo troppo bene. E quanto è difficile per uno come me campare là in mezzo, per tutti quelli come me, quelli con la tuta, ma gentili e onesti.